Questa è una giornata che nasce in collaborazione con l'associazione OIPA, grazie anche al contributo del BIM, ha un grande obiettivo che è quello di sensibilizzare ed educare soprattutto i bambini al rispetto per le amici a quattro zampe ed è così che abbiamo coinvolto i bimbi del nostro istituto comprensivo di Campli, i bimbi del ciclo della scuola primaria hanno realizzato un disegno, quindi un elaborato grafico nel quale rappresentano la loro vita con il loro amico a quattro zampe e invece chi non ha ancora un amico a quattro zampe come si immagina averlo accanto. Tutti i bimbi hanno consegnato il loro elaborato e poi verranno premiati in questa giornata che vede sicuramente i bambini e gli animali come protagonisti in una domenica appunto da trascorrere in famiglia. L'idea è appunto quella di comunicare quanto siano importanti gli animali, quanto sia importante conoscerli non solo dal punto di vista domestico ma anche il lavoro che fanno nei lavori appunto di soccorso e durante le emergenze. Ci saranno delle dimostrazioni dei cani da salvataggio che abbiamo visto impiegati purtroppo ahimè negli eventi sismici che ci hanno riguardato nella grande valanga che ha colpito Rigopiano e quindi il rapporto che si genera tra cane e operatore. Abbiamo voluto dare luogo a questo evento in collaborazione con il Comune di Campo e il BIM quindi ringraziamo che ci hanno voluto sostenere in questa nostra visione di come vogliamo sensibilizzare le nuove generazioni ad andare a contatto con i nostri amici a quattro zampe. Quindi abbiamo indetto presso la scuola primaria del Comune di Campli un concorso dove abbiamo invitato i bambini a disegnare la loro vita con il loro amico a quattro zampe. Abbiamo avuto modo di visionare alcuni di loro disegni e siamo rimasti veramente colpiti dalla loro sensibilità. Naturalmente questi disegni verranno esposti presso l'Afiteatro del Comune di Campi a Floriano il primo ottobre dove ci saranno anche delle esibizioni di cani da salvataggio quindi i lupi del Gran Sasso e della Croce Rossa. Daremo luogo a un'animazione per i bambini. Tutti i partecipanti verranno premiati con attestato e faremo una grandissima festa verso la loro sensibilizzazione con i nostri amici.